Ciao bella gente oggi vi spiegherò come leggere il vostro quotidiano preferito tutte le mattine, gratis o quasi allora, dobbiamo andare sul sito medialibrary.it medialibrary.it e selezionare l'ente che vi è più vicino ci sono tantissimi posti, biblioteche più che altro nelle quali dovrete farvi fare la tessera di prestito a domiciliare e farvi attivare quella tessera per il servizio telematico vi verrà dato una userid e una password e avute queste userid e password penso, non so le altre parti ma qui a Livorno si pagano 4 euro l'anno per il prestito domiciliare allora con questa userid e password scegliete l'ente dove avete fatto la tessera io vado sulla regione toscana e metto il mio userid e la mia password ok a questo punto a questo punto vado a scegliere tra le altre cose ci sono anche gli ebook da scaricare e leggersi ci sono riviste qualsiasi cosa audio, audiolibri e tra le altre cose c'è l'edicola con i giornali da scegliere carattere nazionale carattere locale e io vado a scegliere il mio giornale preferito eccolo il tirreno sfoglio e tutti i giorni dalle 6 e mezzo 7 troverò il mio giornale diciamo fra virgolette fresco di stampa pronto alla lettura ecco posso sfogliare le pagine posso ingrandirle e tranquillamente leggermelo questo tutti i giorni 7 giorni su 7 senza diciamo nessun costo all'infuori di quello della tessera tutto qui tanti saluti bella gente e alla prossima ciao ciao